L'Exma è un luogo del cuore, un luogo del cuore della cultura della città di Cagliari. È aperto dal 1993, quindi ha una storia lunga e profonda di rapporto con i suoi abitanti. Io li chiamo così, sono tutti quelli che da così tanti anni lo hanno fatto crescere e arricchire di cultura, di spettacolo, di didattica, di tantissimi linguaggi contemporanei che ogni giorno si alternano all'interno di uno spazio così meraviglioso, uno spazio che cresce, che ha la capacità di essere sempre più inclusivo e dinamico attraverso le arti, le arti contemporanee, con una grande capacità di avvicinare a questi linguaggi che potrebbero apparentemente sembrare difficili, invece tutta la città e anche i turisti quando arrivano a conoscerci.